In un periodo di crisi profonda, come quello attuale, ci si arrangia per arrivare a fine mese. Il governo chiede sacrifici per risanare il debito pubblico, la revisione della spesa mette in atto tagli ovunque ci sia una voce di spesa e l'occupazione langue, piccoli lavoretti senza nessuna certezza. Siamo nell'era del precariato. Cosa penserebbero allora i cittadini se qualcuno gli dicesse che nel resto d'Europa i disoccupati percepiscono un contributo statale di 600 euro al mese per 24 mesi? La proposta viene da Associazione Movimenti, è una campagna nazionale a cui aderiscono alcuni partiti come Rifondazione Comunista, SEL, Comunisti Italiani e speriamo anche altri. Noi ci proponiamo di costituire in Abruzzo come in tutta Italia comitati che portino avanti questa rivendicazione al reddito garantito che c'è praticamente in tutti i paesi europei, non c'è in Italia, non c'è in Grecia, volta a garantire un reddito a tutti i cittadini e alle cittadine privi di mezzi. 600 euro nella proposta di legge viene proposto, unificando a questo livello tutti i trattamenti sociali più bassi. In tutta Europa se sei disoccupato hai diritto a un reddito. La proposta racchiude in sé la medicina per ovviare a tante cattive abitudini della quale l'Italia ormai si nutre. Lavoro in nero sottopagato, assenza di contributi e nessuna garanzia di continuità. In Europa sono solo due le nazioni che non offrono contributi per i disoccupati, e cioè l'Italia e la Grecia. Inutile ricordare le vicissitudini greche e i disastri economici che l'hanno resa famosa anche fuori dall'Europa. Il reddito che ha la funzione non solo di garantire la dignità e il diritto alla vita ai giovani e meno giovani, ma ha anche la funzione di combattere fenomeni come il lavoro nero. Se qualcuno dirà che queste misure sono assistenzialistiche e poi la gente non va a lavorare, voglio ricordare che le locomotive d'Europa come la Germania, una forma di reddito base, ce l'hanno da decenni. E non mi pare che siano posti dove non si lavora. Non si lavora gratis come sta accadendo in Italia.